Il primo test stagionale Anche sul gol subito abbiamo esasperato una situazione che stiamo lavorando Però queste partite servono per cercare sicurezza in quelle prime richieste che ho fatto ai ragazzi nei primi dieci giorni Poi per il resto i ragazzi hanno dato veramente tutto Sapevo che sotto l'aspetto della condizione potessimo fare fatica oggi Perché veramente sono in grosso sovraccarico Ma questo faceva parte del percorso e del tipo di partita Poi la squadra comunque per atteggiamento ha voluto continuare a macinare a fare le cose che abbiamo fatto E forse la cosa che mi è piaciuta di meno magari la poca precisione in fase conclusiva Nel senso che abbiamo creato soprattutto al secondo tempo veramente tantissime palle e gole Dobbiamo abituarci a essere più precisi Primo tempo però è stato caratterizzato da un vero nubifraggio che si è abbattuto su Cascia E quindi è stato anche complicato giocare Sì assolutamente Primo incontro stagionale Proprio nell'unico giorno che è arrivato il freddo qui a Cascia E questo acquazzone si è condizionato un pochino Però questo è abbastanza relativo Nel senso che al di là della difficoltà del terreno pesante nel primo tempo Potevamo fare qualcosa un pochino meglio ma soprattutto con più velocità mentale Non tanto fisica perché lo sapevamo che non potevamo esserlo Ma mentalmente nel primo tempo potevamo essere un pochino più rapidi nel girar palla Ma questo è un percorso di crescita naturale Nel secondo tempo ha dato spazio a tutti i bianconeri disponibili Lasciando in campo il solo Simic ma è stata una necessità vista l'assenza e l'infortunio brutto occorso a Tavcar Sì, purtroppo dispiace per il ragazzo, dispiace per noi perché perdiamo una pedina molto importante Sì, ho dovuto tenersi i mici dentro perché ora ho tre centrali E quindi chiaramente parleremo con il direttore della società per capire come risolvere questo problema che è arrivato all'improvviso Bisognerà intervenire anche per i centrali sul mercato? Probabilmente sì, ma quello che mi interessa di dire oggi è fare un grande in bocca al lupo al ragazzo Perché veramente è stato sfortunato e gli siamo tutti vicini Grazie mille Grazie mille